Eitan, grazie. Chi altri avrei potuto scegliere? Eitan. Mia, lo so che hai sofferto. Parli a me. Sei coinvolta in qualche modo, però. Ascolta, devo sapere la verità. Eitan, te lo giuro, io non mi ricordo. Tu prova. E' la nave. Come cazzo è arrivata? Va tutto bene? Che cazzo era? Ma che diavolo? Cos'è? Che cos'è? Mammina. Di qua. Perché? Eitan. Eitan. Ethan! 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Hai detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Aspetta! Sono stufa di aspettare. 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 stufa di aspettare. sono stufa di aspettare. sono stufa di aspettare. sono stufa di aspettare. sono stufa di aspettare.